Ciao ragazzi, sono Matteo e voglio presentarvi questa ultima arrivata di casa Porry Smith da Custom 24, finitura Wade Blue, che lascia intravedere queste venature del top che sono una cosa fuori di testa, sono assolutamente da vedere dal vivo Poche parole sentiamola, perché va veramente sentita Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Ciao Ciao